Noi abbiamo preso una posizione che è unica, ovvero aver fatto già un decreto per il controllo della situazione sanitaria dei singoli e quindi di questi immigrati e poi anche dei ricoveri, visto che il governo pensa di fare delle tendopoli in località dove di fatto ci sono delle discariche, ce l'ho aperto, caserme abbandonate da 30-40 anni dove mai nessuno ci è andato a pulire, non sappiamo neanche quale sia la situazione. Così non si fa, questo non è rispetto della dignità umana, prova ne sia, che il Veneto ancora una volta si incarica di fare qualcosa che sia positivo, ovvero di controllare la sanità, la salute di questi cittadini, le condizioni sanitarie in generale a tutela della salute ovviamente dei Veneti. Beh è scandaloso quello che sta accadendo, un weekend sbagliato nelle previsioni per noi significa almeno 15 milioni di euro, gli albergatori stanno pagando caro questo conto, un conto di previsioni sbagliate di oltre 300 siti a livello nazionale che fanno previsioni del tempo e che poi non hanno un confronto nella realtà. Direi che bisogna non solo ribellarsi ma anche cominciare a chiedere i danni.